Bene ragazzi siamo tornati qui con un nuovo episodio dei nostri video da fatti perché oggi vedremo un'altra volta i video nostri a rallentatore dato che ci si sono aggiornati e ci sono molti video in cui ci avete chiesto di guardarli a rallentatore puoi parlare comunque si si no si aspetta che spieghi non abbiamo detto guarda questo video tu fai il buon Fabio se parli va bene aspetta che spieghi cioè una volta ci metti i line per spiegare ok tutto qua quindi dobbiamo vedere i nostri video a rallentatore e cominciamo dal video di Sabrina Sabrina la ballerina la ballerina la velina la ballerina fumate con la stoccola esatto ma parla come lavori a Fiedra e Mignotta partiamo da questo e lo mettiamo sperando che c'è il rallentatore velocità ok ma lo sai che non ti vedi quindi stai facendo super più cazzo perché non ti vedi la faccia ma guarda sta lingua che non ti vedi la faccia che cosa è stata l'attacco da la 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 l'alla cosa succedeva? E' un'altra cosa la stessa finita la la adesso adesso io e lo is me ma no ma che cazzo sto Ragazzi Allora Vi devo ricordare Prima di chiudere il video Che la settimana prossima Saremo in una luna All'estelunga Di Milano Giusto per precisare Noi non saremo all'estelunga di Milano Perché magari molti hanno capito veramente No, per prima hanno scritto anche Su Instagram in direct Non saremo all'estelunga di Milano Stavamo prendendo per il culo quelli che fanno così Saremo all'estelunga di Tassari Di Tassari o di Sassuolo Esatto E con noi ci sarà il grandissimo giovanotti Con cui lancieremo Apriremo il concerto E lui canterà Follow 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 Capito? Per pensi a suo male Allora adesso dobbiamo mettere Un video di un altro youtuber Così Lo facciamo un test Per vedere come funziona Eccolo Fatissimo All'estelunga di fare veramente così Lo chieda Benissimo Vediamo Vediamo Proviamo Proviamo a fare questo Beh vai 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 Vom vum vum Vom vum Vom vum Vom vum Vom vum Cosa c'è? Un decino Vom vum vum Vom vum Ma che sta facendo? Beh ovviamente Vom vum Allora questo video si può riassumere in Vom vum vum Vom vum non sono quelle che tipo un obiettivo tutto puoi fare velocemente però io devo dire Rafa l'ha fatta abbastanza in pezzo sta strafatto aspettate regalo dovete pensare che lui sia strafattissimo guardate il pezzo anche di prima è una cosa assurda purtroppo ritmo un tempo era pieno cioè eh lui l'ha provato molti l'ha provato tutti le droghe però vediamo i sector che è tutto sempre carico nei video no? voglio vederlo a rallentatore come viene che cazzo è? campione prima che il video inizi inizia bene inizia che sta smacellando allora ragazzi mi guardate inizia 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 si è molto pratico questo questo è il momento allora quello lì era il classico momento di down capito? dopo l'ecitazione c'è il down si si guarda questo deve andare in loop per tutta la vita c'è c'è ma non ci arriveremo mai appunto c'è la bamba inizia 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 Cambia forma Grazie per l'erba Era tipo quello Allora ragazzi anche per oggi Diciamo che abbiamo avuto Abbiamo avuto la nostra dose di Fattaggine e ansa Era quello la di Sabrina Andatevelo a vedere se non l'avete ancora visto Perché merita Merita 77 like Se mi ha visto 77 like E anzi menti un pentatonaglio Vorrebbe Comunque ragazzi Anche questo video è finito Se vi è piaciuto e volete vedere altri video Se vi vedete ce l'ho qua sotto In generale perché sennò qui tamo da youtube Esatto e se volete vedere questi genere Andate a vedere anche il video di Sabrina Quello lì che abbiamo appena visto Perché merita Andate a vedere un po' tutti Meritano Anche quello di Johnny Dove non si è capito una lente Non so perché abbiamo così pochi iscritti Perché ce ne meridiamo di più Mamma mia No vabbè a parte tutto Ce ne abbiamo anche troppi Rispetto a quelli che ci meridiamo Comunque niente E noi ci vediamo al prossimo video Da Grazie è tutto Ciao Sì ciao Comunque Cioè potete anche sistemare dopo Eh vabbè Ciao Ciao Ciao